Il territorio dei Castelli è importante sicuramente per l'agricoltura, a parte la parte vinicola, a parte la produzione dell'olio. L'olio dei Castelli è un olio importante, anche se la gente non lo conosce in maniera così noto come si conosce l'olio della sabina, però l'olio è una zona vulcanica importante, è anche una cosa rilevante e un momento molto limitato dell'olio della sabina. L'agricoltura in effetti è uno dei segnali importanti della sostenibilità locale e la maniera in cui se l'agricoltura funziona, funziona anche l'ambiente. Quindi sicuramente il GAL sta giocando un ruolo importante anche a dare aiuto alla sostenibilità locale. Penso che sia importante, se uno guarda quali sono le particolarità di questo territorio, una delle particolarità importanti è la frammentazione dell'azienda agricola. Allora credo che un ruolo importante del GAL debba aiutare alla cooperazione. va preparato ora, informato ora quello che deve succedere in modo tale che per i prossimi bandi, la comunità, le aziende sono molte più pronte, avendo capito la complessità del progetto da mettere in piedi per ognuno delle azioni, sia pronta a reagire e dare delle risposte costruttive.